ciao a tutti oggi un nuovo video sulla libreria che ho messo a posto e vi faccio vedere un po come l'ho sistemata poi vi parlo dei miei libri preferiti dato che devo sistemarli lassù che non sono miei vabbè le statuine di assassin's creed ecco qua poi ho fatto i primi due scomparti con manga e le statuine di oli benji e anche sotto questo è la sono i volumi più vecchi quindi quella originale questi sono quelli rifatti con i fumetti rimango originali accolpati tra di loro infatti sono meno numeri e poi la o le due lettine che ho trovato al luca comics qua in giù ho messo gli altri manga preferiti che sono 5 centimetri al secondo che consiglio di guardare su netflix e anche il giardino segreto poi ho i cinque numeri di orange che bellissimo e anche i dieci volumetti del ricordo d'amore la clessidra poi ho i vari dvd del studio ghibli con nausicaa e pioggia di ricordi poi ho tutta la serie completa di neogenesis vangelion e altri due dvd di si sento il mare e la collina dei papaveri sempre dello studio ghibli poi quale settunie di la collezione completa del di santoro gorgeous e 3 lol qua in fondo i vari monopoli e altri giochi a tavolo poi passiamo in alto qui c'è tutta la sezione dragon ball con anche il monopoli vegeta che mio preferito poi qua devo sistemare i libri sul giappone qui ho le varie guidi turistiche e tutte le cose che ho comprato a londra con le paperette e la regina e due scettri che ho trovato sulla kawaii box qui lo scomparto di cristina con i suoi cd e la scatola con le sue cose qui anche poi vi faccio vedere i miei libri preferiti che sono questi ho fatto un po di pulizia qui altri libri i più belli e con altre questo poi va di qua tutte le statuine di harry potter qui sono dei fanco pop l'ho scelto di sailor mars e altre statuine qui ci sono i miei cd quali sono i libri di assassin's creed che non sono miei qui ci sono le le collezioni delle palline delle città qui c'è la sezione dedicata ai dischi e per adesso ciò i queen con il monopoli e il fanco pop di freddie mercury qui ci sono dei videogiochi e altri cd e quali sono dei pupazzetti ok allora in questa sezione del giappone ci sono quattro libri che ho fatto rilegare che avevo preso in edicola e sono su cultura cibo eccetera invece passiamo i libri questi qua sono i libri in pratica tutti di balana yoshimoto che la mia scrittrice preferita e volevo metterli in ordine di dal più vecchio al più nuovo allora mi sono fatta la lista perché allora non lo so di sicuro allora il primo e kitchen allora vediamo se lo trovo chi c'è in chi c'è in chi c'è in eccolo lì allora possiamo un po di qua di là eccolo qui qui c'è anche questo che è il primo libro che ha scritto del 98 scusate contrario 89 questa è la copertina tutti i libri di balana sono molto sottili però non mi piacciono tantissimo euro questo qui è un romanzo sulla solitudine giovanile quindi lo metto qui che il primo mi farò un po di giro alla testa poi c'è presagio triste che è il secondo allora presagio triste che lo trovo qui mi piacciono anche molto le copertine e questo qui parla di solitudine e di nostalgia per la casa ecco qua poi c'è sottofondo sentite la lavatrice sonno profondo chissà dov'è allora sonno profondo lo troviamo qui ecco qua questa è la copertina e questo parla del sonno viene come l'avanzare della marea opporsa impossibile questo è l'incipit poi c'è su gumi eccolo qua il primo questa è la copertina sono tutti editi feltrinelli lei ha la collana proprio sulla feltrinelli questo dice l'amore è una battaglia non si possono rivelare i propri punti deboli nemmeno la fine poi c'è n p eccolo qua questa è la copertina ok poi c'è lucertola vediamo un po' dove lucertola lucertola non ce l'ho come possibile il fine che voglio dire di me ho aspettato un attimo che c'è uno qua sotto perché non ce l'ho lucertola vabbè dopo vedrò passiamo un altro amrita che qua eccolo qua scusate trovato era sotto lucertola e questo qui e poi quindi c'è amarita che questo e lo mettiamo qua poi c'è l'ultima amante di acico che è l'ultima amante di acico ma stamattina sono non vedo niente eccolo qua eccolo qua la copertina poi c'è p questa è la copertina e lo mettiamo qua poi dopo slide c'è onemoon ecco la devo sempre scusa tutto con il cagnolino poi dopo onemoon a cacca eccolo qui con una bambina o bambino qui c'è scritto dentro di me restava ancora pieno di bellezza il riverbero del mio ultimo sogno i temi di banana sono sempre sogni, amore, tristezza, famiglia, solitudine, rimpianto sono questi i temi principali poi c'è il corpo sa tutto il corpo sa tutto dove sei? mamma mia il corpo sa tutto non lo trovo molto bene eccolo qua questa è la copertina poi c'è la piccola ombra eccolo qua davanti questa è la copertina poi andromeda hikes questo è il primo di una trilogia che è qua molto bella la copertina con la carpa giapponese questo è il primo di una trilogia che si chiama la serie il regno è una vincente e toccante esplorazione dei temi della perdita e della guarigione e di come si può trovare la felicità nelle famiglie più anticonformiste ok questo è il più alto poi c'è arcobalena che l'ho visto che è qua che è questo e la trilogia non l'ha fatta uscire i tre volumi vicini ma distanziati nel tempo infatti non mi ricordavo quasi più l'abito di piume allora l'abito di piume eccolo lì che è questo e banana scrive i libri quasi distanziti da un anno all'altro ne fa uscire molti il vicolo cieco i cori di un vicolo cieco che è questo poi c'è high and dry che lo troverò in un attimo high and dry nel centro di niente il coperchio eccolo qui primo amore ho deciso di fare una nuova rubrica sul canale ogni volta che leggerò un libro che mi piace che tengo vi farò la recensione poi c'è il coperchio del mare per adesso sto leggendo un libro di Jonathan Coe per il premio di Moncaglieri ma non mi sta piacendo quindi non ve ne parlerò il coperchio del mare che è questo qui mi parlerò solo dei libri proprio belli belli che mi sono piaciuti poi c'è il secondo volume della serie Regno il dolore le ombre e la magia che è questa qua guardate che bella copertina ok poi c'è il giardino eccolo qua il giardino segreto con i Sakura ok andiamo a scofare i saldritti ok poi c'è questo video direrà un bel po' il lago ma così vi faccio una panoramica di tutti i libri eccolo qua con l'uccellino sul lago il lago un viaggio nella memoria fino alle origini delle paure la storia di due giovani alle prese con la più difficile delle prove scoprirsi innamorati poi c'è un viaggio chiamato vita eccolo qua forse questo è il mio preferito perché nel gruppo di lettura su facebook che faccio parte l'avevo messo in staffetta infatti mi è arrivato pieno di di dediche e sottolineature e quindi forse questo è il mio preferito che è questo un viaggio per quanto terribile possa essere nel ricordo si trasforma in qualcosa di meraviglioso poi c'è delfini che è questo questo lo metto qua sotto poi c'è ci cian e io che questo qua poi c'è a proposito di lei con questi due bellissimi bambini con questi due bellissimi bambini ok poi c'è mosci mosci e lo metto qua davanti poi c'è d'onguri le sorelle d'onguri eccole qua poi c'è another world che è l'ultimo della serie il regno con il gatto bellissimo e poi il dolce domani ah il dolce domani devo ancora leggerlo ce l'ho nella cassa panca con tutti i libri da leggere che ne ho un bel po' ma mi saccavallano anche i libri della dei vari concorsi quindi non riesco ad andare avanti vabbè allora invece qui ho altri libri sul Giappone che ho deciso di tenere perché questo qua è bellissimo infatti vi consiglio di leggerlo di Isabella Allende l'amante giapponese è stupendo questo è un'epica storia d'amore che trascende il tempo e spazio dalla San Francisco dei nostri giorni alla Polonia passando dalla poco conosciuta vicenda dei campi di concentramento in cui vennero rinchiusi i giapponesi e americani durante la seconda guerra mondiale questo è bellissimo poi ho deciso di tenere questo qui che è un saggio di Giancarlo Calza a Sile Giappone di Enaudi ed è un saggio sulla sensibilità contemporanea anche in occidente sul Giappone e poi ho ancora questo di Murakami Haruki la strana biblioteca ecco anche Murakami Haruki mi piace ma non tutti i libri ho letto IQ 84 ho letto questo e mi pare basta poi ho ottenuto anche questo di Raide Takashi il gatto venuto dal cielo che è molto bello che parla di un gatto che cambia la vita di una coppia che litiga sempre ma poi riuscirà a farli rimettere insieme e poi in una libreria si chiama La Claudiana Torino in vetrina avevo trovato queste due chicche chicche questi due libricini piccolissimi di Junichiro Tanizaki la croce buddista sono piccolissimi e quest'altro sempre piccolissimo di Yasunari Kawabata il lago e quindi questi sono miei e li metto qua e ci rimetto la Geisha invece passo a parlarvi dei libri miei preferiti non sul Giappone ma normali e vi faccio vedere quali sono un po' alla veloce se non dura 40 anni questo video allora ci sono i libri vabbè su Max Pezzali che è il mio canale preferito i Caboli non mollano mai e ho anche la Dedica come anche questi due alla Dedica di Silvio Muccino che a me piace tanto l'attore questo qua è bellissimo Parlami d'amore che ha fatto anche il film e questo è Rivoluzione numero 9 poi ho Lorenzo Marone La tristezza al suono leggero che è un thriller invece qua sopra ho questi due che dentro c'è un mio racconto quindi l'ho tenuti per ricordo di Valeria che è una mia amica viaggionauta e questo le storie della buonanotte per bambini ribelli che è molto famoso quindi lo conoscerete poi c'è il libro che anche questo qua l'ho fatto partire in staffetta infatti è tutto sottolineato con le dediche di Dare a Bignardi l'amore che ti meriti questo è bellissimo dovete leggerlo poi questi qua sono due volumetti di poesie del mio ex professore delle scuole superiori Roberto Rossi Precerutti Una meccanica celeste e Le ruine dal cielo anche questi sono autografati da lui poi questi qua sono due libri di una mia amica che è insegnante di scrittura Laura Scaramazzino anche questi sono autografati percorso creativo un viaggio chiamato scrittura e l'uomo che sussurrava no che salvava le anatre che insegnava il Big Bang poi ho Alda Merini che è la mia poetessa preferita Fiore di poesia questo è sempre un libro su Alda di Michele Caccamo Il segno clinico di Alda questo è il mio libro preferito di Simona Sparaco Equazione di un amore bellissimo parlo di una storia tormentatissima d'amore questo è stupendo il mio scrittore preferito poeta preferito Walt Whitman Foglie d'erba questo è di uno scrittore che ho ancora dedica Massimo Tallone di Torino parla di dei suoi libri preferiti e per ogni stato d'animo mette il libro che dovreste leggere e poi questo colpa delle stelle famosissimo anche il film di John Green questi sono i libri che ho ottenuto perché ho fatto un po' di pulizia anche questo di Alda Merini innamorato e ho ottenuto solo quelli proprio belli 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 e invece di qua ho che ho letto il paradiso il purgatorio e l'inferno di Dante questi bisogna assolutamente leggere nella vita con la traduzione in italiano perché se no non si capisce bene con anche le note e poi questi qua sono dei libri che ho restaurato nel corso infatti si vede uno è il paese del sogno e l'altro è un attimo solo che trovo il titolo si è pure l'incontrario allora eccolo qua di Rudyard Kipling Stolchi e C e questi li ho restaurati invece qua sotto che ho la cassa panca piena da leggere anche sono i libri belli 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 quelli con la copertina bellissima allora qui ho messo il mio libro preferito del Kergole e pregiudizio di Jane Austen piccole donne la bella e la bese Alice nel paese delle meraviglie di minimaglia di Lippocampo e questi qua sono tutta una serie di libri che ho preso in edicola piccole donne cibi tempestose il gollo e pregiudizio che è uguale a questo la plettra scarlatta madame bovary Jane Eyre e Anna Carienina in diviso in due volumi qui farò la collezione infatti li metterò poi tutti esposti però c'è la cassa panca ancora piena da leggere e basta per adesso basta quindi aspettatevi poi la rubrica sui miei libri preferiti questo video è durato tantissimo infatti finito mettete un pollicino lì in su e iscrivetevi al mio canale ciao